Grazie a tutti, benvenuti al mio intervento. Come avete capito un po' l'ora di scienze questa, quindi siamo un po' fuori dalle community. Vorrei semplicemente illustrare alcuni punti che ho trovato molto interessanti proprio per chi si occupa di management, di comunità. Forse sono anche cose conosciute, forse cose un pochino meno. Io comincio a presentarmi con la prima slide. Come faccio? Allora, proviamo. Allora è quest'altro, perfetto. Come da introduzione ho scritto un libro sull'applicazione delle neuroscienze alla comunicazione per oepliche, neurocopywriting, in cui ho cercato di sintetizzare un po' le scoperte, pensando soprattutto non tanto alla scrittura ma anche al design e al web design. Questo perché io di formazione sarei un UX design, avevo studiato e ho fatto una specializzazione in UX design, tra l'altro online all'università di San Diego, e ho scoperto l'importanza dei test. Questo mi ha portato ad approfondire come vengono testate le interfacce, a scoprire le neuroscienze, il neuromarketing e questo tipo di test neuroscientifici. E da qua poi mi sono appassionato a questa materia e ho continuato ad approfondirla. Mi sentite col microfono? Perfetto. Allora, cosa possono insegnare? Andiamo al sodo. Cosa ci insegnano le neuroscienze quando parliamo di community? Ecco, la cosa secondo me fondamentale che io ho trovato innanzitutto è proprio il valore che hanno le community per le persone. E questo ce lo dimostra un esperimento che è stata fatta da questa antropologa nel 2007, la Herman. La Herman ha provato a confrontare le abilità cognitive dei bambini di due anni, quindi cuccioli umani, con quelli dei cuccioli di scimpanze, che sono dei primati molto simili a noi. Ecco, sorprendentemente si è scoperto che poi il cucciolo di scimpanze è uguale all'essere umano, cioè ha esattamente le nostre abilità cognitive. Quindi quando si dice sei una scimmia, forse non è poi così sbagliato. Però attenzione, c'è solo una cosa in cui il cucciolo umano è superiore allo scimpanze, sono proprio le abilità sociali. Cioè la caratteristica della specie uomo, la specie uomo rispetto ai primati superiori, si differenzia proprio per il linguaggio, che è una cosa che abbiamo solo noi, e per questa grande capacità che ha di creare relazioni sociali e quindi di interagire con gli altri. Quindi non sembra, ma le community sono qualcosa di intensamento umano e una prova l'abbiamo se noi proviamo a deprivare le persone dei contatti, mettendoli in isolamento, oppure in situazioni di stress, tipo le guerre o i conflitti in generale. Ecco, è stato scoperto che guerre, conflitti e isolamento causano dei danni psicologici, e questo è intuibile, ma causano anche danni fisici, cioè lasciano delle tracce addirittura nella struttura dei neuroni a livello biologico. E questo dimostra che non è uno scherzo, cioè quando diciamo che l'essere umano è un animale sociale che ha bisogno degli altri, parliamo di un bisogno che non è soltanto relazionale o affettivo, ma probabilmente è anche fisico. Se voi pensate ai bambini, ad esempio, abbandonati alle fiere, non so, alle belve, perché i genitori non potevano tenerli, che vengono allevati dagli animali, questi bambini hanno tutti dei gravissimi deficit a livello cognitivo, non riescono a volte neanche a camminare e fanno molta fatica a recuperarli. Quindi questi esperimenti, queste scoperte ci dimostrano che quando parliamo di community, parliamo di una cosa assolutamente necessaria per il benessere e la vita delle persone. Secondo grande ambito di studi delle neuroscienze sulle community, sono stati i meccanismi dell'empatia. Voi sicuramente sapete tutti, no, più o meno l'empatia e questa capacità che abbiamo di raffigurarci cosa pensa un'altra persona. Non so se lo sapete, quando una persona non ha empatia o ha poca empatia, in genere una diagnosi di schizofrenia o di una malattia piuttosto grave, che lo chiamano il morbo di Asperger, mi sembra, è quando si perde la capacità di comunicare con gli altri. Senza epatia non c'è comunicazione. Noi per poter comunicare, interagire con altre persone, abbiamo bisogno di poter creare, si chiama in psicologia, una mappa mentale del suo stato d'animo e dei suoi pensieri. Ecco, le neuroscienze hanno scoperto che alla base di queste mappe ci sono i neuroni specchio, di cui approfondiamo adesso brevemente le caratteristiche. Sono, forse avete già sentito parlare dei neuroni specchio, vedo qualche sorriso, sono dei neuroni che imitano praticamente l'azione di una persona di fronte a voi. Oppure cercano di simulare, in genere si crede dalle espressioni facciali, ma non si sa ancora, di simulare il suo stato d'animo. I neuroni specchio hanno parecchie funzioni. Oltre a fare le mappe mentali dello stato d'animo delle persone che avete di fronte, servono anche per l'apprendimento. Infatti non so se notate che i bambini tendono a imitare continuamente cosa fanno gli adulti. Quindi questo meccanismo dei bambini è l'esempio più lampante del funzionamento dei neuroni specchio. Imitazione e quindi apprendimento. Ma i neuroni specchio sono anche alla base del godimento estetico. Ad esempio, quando andate al cinema, voi vi immedesimate così tanto nel personaggio che voi provate le stesse emozioni del personaggio, giusto? Il film dell'orrore funzionano sui neuroni specchio. Praticamente il vostro cervello replica, fa una ricostruzione, una simulazione di cosa sta succedendo al personaggio e si spaventa esattamente come il personaggio. Attenzione che questo spavento è stato dimostrato non è una metafora, non è psicologico, è fisico. Lo vedremo più avanti. Attiva effettivamente le aree del dolore, le aree della paura, come se effettivamente tutto quello che accade fosse reale. Un aspetto importante dei neuroni specchio è stato scoperto, probabilmente una conseguenza dei neuroni specchio, è stato dimostrato che due persone quando parlano hanno una sintonizzazione delle aree cerebrali. Sembra quasi telepatia in effetti. Quindi il vostro cervello rispecchia come attività cerebrale quella del vostro interlocutore. Vi sintonizzate a tutti i livelli sulle emozioni, sul livello emozionale e, chiamiamolo energetico, che è la persona che avete davanti. Abbiamo una prova di questa scoperta, anche un'applicazione, che è stato da una ricerca dell'Università Cattolica di qualche anno fa. I leader piacevoli di una community sono anche quelli che riescono a incoraggiare maggiormente la comunità. Quindi essere persone con un... Qui abbiamo la prova di come il nostro stato cerebrale si trasmette agli altri. Quindi se voi riuscite ad avere un'attività cerebrale, chiamiamola positiva, l'altra persona la percepisce come un'energia positiva e a sua volta tende a diventare positiva. Questo può creare un loop di crescita di questa energia che se voi avete gestito una community sicuramente ha avuto esperienza. Cioè se trasmettete alla community un'energia positiva, la community in qualche modo migliora. A livello di comunicazione ricordiamoci che questo non è tanto legato alle parole che dite, ma più che altro a come lo dite. Cioè la differenza tra un ciao, che è un po' freddo, e un ciao, che è già molto più caldo. Le persone, quello che si chiama comunemente atmosfera ed energia, e che poi è legato probabilmente a questa sintonizzazione che si crea nella comunicazione tra le attività cerebrali di chi fa parte di una conversazione, è probabilmente alla base di questo meccanismo e che ci invita quindi a cercare di essere piacevoli. Abbiamo altri ambiti della comunità che sono stati indagati, ad esempio quello della fiducia. Voi sapete che la fiducia è la base di una community. Senza fiducia le comunità tendono a disgregarsi in sottogruppi, nascono meccanismi di rabbia, di attacco, di conflitto, e diventano fondamentalmente ingestibili. Ecco, la fiducia è chiaramente un meccanismo molto complesso, non è che si ha oggi una teoria definitiva della fiducia, però si è scoperto che la fiducia è legata in qualche modo alla stimolazione di un ormone che è l'ossitocina, che forse avete già sentito parlare, è l'ormone cosiddetto dell'amore, è l'ormone che in genere si sviluppa nelle madri quando hanno un figlio piccolo. Recentemente però l'ossitocina è diventato un ormone molto più importante, perché si è scoperto che gioca un ruolo anche nei rapporti di amicizia, nei rapporti affettivi, nei rapporti di comunità anche, ovvero sia questo ormone ha una funzione di rendere meno critici, quindi meno rompiscatole, una community dove domina l'ossitocina sarà una community con poche persone che creano dei problemi, ma ha anche un effetto di rendere le persone più aperte agli altri, più disponibili a seguire anche cosa dicono gli altri, quindi a sviluppare tutte quelle doti di cui vi parlava anche il relatore prima di me quando parlava ad esempio di attenzione, di ascolta, eccetera, eccetera. Ecco, il neuroeconomista Paul Zak ha fatto un grosso studio sull'ossitocina e l'ha dimostrata con un esperimento scientifico in cui l'ha fatto inalare, fa un po' ridere via spray nasale a un gruppo di persone, l'altro gruppo di persone invece gli è stato dato, il classico placebo faceva da gruppo di controllo, i due gruppi sono stati impegnati in svolgimento di alcuni task sociali, il gruppo a cui è stato somministrato all'ossitocina era più entusiasta, era più aperto e svolgeva meglio i compiti sociali del gruppo a cui non era stata inalata l'ossitocina. Questo ha dimostrato il ruolo che ha l'ossitocina proprio nei compiti sociali e di comunità. Allora, voi direte, a questo punto faccio inalare la mia community l'ossitocina. Io credo che, purtroppo, la legalizzazione dell'ossitocina, non so se ve la consentono, però in attesa che arrivi l'ossitocina spray nasale per tutti, Paul Zak ci ha lasciato questo acronimo che è Oxitosign, che dà tutta una serie di consigli per i community manager, che forse sono poi consigli che io in genere sento spesso, che sono chiaramente essere autentici, avere una comunicazione chiara, avere una comunicazione trasparente, ma soprattutto dimostrare interesse verso le persone nella loro interezza, che io lo traduco con avere una comunicazione un po' più empatica e più emozionale, in modo che questo scalda un po' le persone e crea delle dinamiche di maggior engagement e di maggior coinvolgimento. È interessante un consiglio più specifico, invece, quello di elogiare spesso le persone, anche in maniera visibile, anche in maniera inaspettata. Questo perché l'elogio, appunto, ricordiamoci, questo meccanismo dei neuroni specchio e della sintonizzazione dell'attività cerebrale, se noi siamo positivi e incoraggiamo le persone, io ho notato che è difficile, ma a volte anche le persone negative diventano positive. Quindi molte volte, piuttosto che fare una critica, è cominciare a incoraggiare la persona e cercare di farle capire, diciamo, l'errore che ha fatto in un modo diverso, che andare lì a dirgli hai sbagliato, sostanzialmente. Allora, andiamo avanti a vedere cosa ci possono insegnare le neuroscienze sui fenomeni sociali. Una psicologa che a me piace, che insegna a Darvar, la Maina Saikara, spero che la pronuncia sia giusta, ad esempio ha scoperto cosa succede ai tifosi quando perde la squadra, facendo degli studi con la FMRI, che è una risonanza magnetica che vi dà questo tipo di immagini, cioè riesce a mappare attraverso la circolazione sanguigna le aree cerebrali che vengono maggiormente attivate mentre state facendo un'esperienza. Lei ha scoperto che quando la squadra del cuore perde, al tifoso si attiva l'aria del dolore. Che voi direte, questo me l'aspettavo. È interessante questa scoperta però, perché dimostra che questi fenomeni hanno una valenza a livello proprio biologico, a livello fisico, cioè sono cose che accadono veramente. Quando perde la squadra del cuore o il team, quando noi subiamo una sconfitta come squadra, non è una sofferenza metaforica, è come se ci pungessero, è quindi una sofferenza di tipo fisico. Secondo me sapere questa differenza può essere utile. Ricordatevi che quando la vostra squadra soffre, è qualcosa di drammaticamente reale, non è una cosa psicologica. Quindi un approccio troppo psicologico, molte volte non serve a niente. Se voi invece ragionate più, ma è un dolore fisico, come se gli fosse caduto addosso qualcosa e fate gli infermieri, forse ottenete, io vedo che le persone che hanno questa empatia ottengono immediatamente dei risultati a curare questo tipo di situazione. Abbiamo anche esperimenti ovviamente sul concetto di comportamento che lede la comunità, chiamiamolo comportamento illegale. Il comportamento illegale è stato scoperto attivo un'area dell'insula che è la stessa del disgusto. Allora, se voi ci pensate, il disgusto verso qualcosa è un meccanismo adattivo di difesa biologico primario che hanno anche gli animali che serve a evitare che andiamo a mangiarci del cibo guasto e quindi stiamo male. Quindi, come noi ci difendiamo dalle sostanze inotticive, usiamo gli stessi meccanismi primari per difenderci da chi mette in pericolo il bene comunità, perché la comunità, essendo l'uomo un animale sociale, attenzione che la community da chi ne fa parte, in modo chiaramente volontario e non coatto, perché se siete costretti a entrare in una comunità avete altre dinamiche, vedete cosa sta succedendo in Ucraina. Ad esempio, se voi siete membri volontari di una community, percepite la community come un valore, quindi la difendete come se fosse un organismo. il comportamento criminale viene vissuto come una minaccia, come una sostanza nociva e non è un caso attivo a delle aree che sono anche qui drammaticamente concrete, biologiche sostanzialmente. A livello pratico, invece, questi altri studi, forse per voi sono più interessanti, sono studi che sono stati fatti sul libero arbitrio ed è stato dimostrato da questi studi che le persone funzionano meglio e si comportano meglio se le lasciate libere, cioè se fate leva non sul dovere ma sul senso di responsabilità e questi studi hanno in un certo senso un po' dimostrato la superiorità delle democrazie sulle dittature. C'è un motivo perché dopo tutto si stava meglio ad Atene che a Sparta sostanzialmente e c'è anche un motivo perché poi nelle dittature prima o poi tutti si ribellano e tutti desidiano tornare a stili più democratici o comunque più liberali. Anche qui sembra quindi che ci siano delle evidenze insomma a livello se non altro di psicologia dei gruppi sociali. Ecco altra cosa che altro contributo interessante almeno a mio giudizio e sono gli studi sulla cosiddetta gioia maligna. Non è un caso che hanno usato una parola tedesca perché era quello e qualcosa che era legato in effetti al nazismo e a quel periodo. La gioia maligna è quando qualcuno prova piacere perché agli altri le cose vanno male. Allora voi potete immaginare cos'è una community dove tutti hanno la gioia maligna dove tutti sono contenti che agli altri membri della community li va male. È chiaro che è una community ingestibile diventa una community dove dominano i sentimenti che in un gruppo sociale dovete sempre evitare che sono la rabbia soprattutto e l'aggressività perché la rabbia e l'aggressività vi distruggono i meccanismi sociali. infatti ci sono stati recenti avevo letto qualche settimana fa uno studio sulle fake news si è scoperto che le fake news che voi sapete sono anche fabbricate da stati come nell'ambito di operazioni di guerre ibride contro altri stati le fake news sembra che hanno l'effetto di distruggere la fiducia nella società da parte delle persone che le leggono e hanno l'effetto di allontanare le persone dai meccanismi sociali democratici cioè avete una società di persone chiuse diffidenti in cui i meccanismi ordinari cominciano a non funzionare più è come gettare praticamente della sabbia in questi meccanismi quindi per quello vi dico attenzione che i sentimenti di rabbia e aggressività forse sono il led l'indice il parametro fondamentale da tenere sempre sotto controllo in qualsiasi community management allora da dove viene questa gioia maligna ma molto semplicemente sembra che si tratti di persone a bassa autostima e ad alta frustrazione quindi abbiamo un'indicazione in una community evitate la frustrazione e cercate di incoraggiare le persone torna di nuovo il ruolo di essere positivi di dare energie positive di incoraggiare cioè una persona con una bassa autostima e con forti frustrazioni non sembra non è un suddito ma è un problema invece una persona con una buona autostima e relativamente poche frustrazioni forse più suberante però è più facile che da un contributo e nel complesso crea meno problemi perché crea meno meccanismi di rabbia sostanzialmente in questa comunità altre indicazioni che potete che comunque sono anche conosciute ovviamente mai riverberare i meccanismi di rabbia quando c'è la rabbia non alimentatela perché rischiate di avere di trasformarla in conflitto utilizzare il senso di responsabilità delle persone è sempre meglio che imporre io aggiungo anche oltre a questi elementi ricordatevi che il dolore che le persone provano legato a ingiustizie limitazioni o frustrazioni è sempre qualcosa di fisico attiva effettivamente i centri cerebrali del dolore quindi un atteggiamento troppo psicologico molte volte non è sufficiente funziona molto di più io vedevo in genere un atteggiamento empatico di dire capisco il tuo dolore me ne faccio carico e ti do subito una pillola di anestetico di energia positiva l'ultimo contributo delle neuroscienze che forse chi si occupa di sviluppo di piattaforme soprattutto di applicazioni conosce molto bene è stato dato da Fogg è un personaggio poco conosciuto in Italia molto conosciuto in California che ha studiato l'importanza della facilità si sapeva da tempo che il cervello è un avaro cognitivo almeno dagli anni 50 si sa che il nostro cervello la strada più facile è la migliore perché il nostro cervello deve risparmiare risorse cioè considerate che ogni volta che voi dovete risolvere un problema complesso cominciate a bervi tonnellate di zuccheri e di glucosio che sono effettivamente calorie quindi il cervello che tende come tutti gli organismi ottimizzare le risorse dice ma guarda quella strada là meno zucchero più risultato allora cosa succede Fogg quando ha applicato questo principio alle applicazioni web ha scoperto che le applicazioni web di successo sono solo quelle che semplificano un compito della vita comune cioè per fare un'applicazione di successo prendete una cosa anche banale andare a prendere il caffè semplificatelo rendetelo più facile scatta questo meccanismo di economia del cervello in genere ottenete una app che ha successo se voi andate a vedere proprio le app sociali che vivono sulle community abbiamo tantissimi esempi dell'applicazione di questo principio ad esempio andare a una festa in casa chi non ha mai usato Camom chi non conosce Camom Camom è un'applicazione che permette di trovare immediatamente una festa in casa vi cercate la festa cliccate pagate e avete l'indirizzo della festa in casa io mi ricordo cosa erano le feste in casa quando ero al liceo e dovevi conoscere chi le faceva e non lo venivi a sapere poi rischiavi sempre di essere nella lista degli esclusi cioè era una cosa estremamente complicata invece con questa piattaforma vi semplifica questo lavoro e infatti vedo che la piattaforma ha successo altre piattaforme che vivono sulla semplicità che conoscete sicuramente ad esempio Meetup Meetup vive sul fatto che con un click trovate il gruppo di quelli che vogliono fare le cose che volete fare voi volete andare in montagna adesso c'è Meeters che organizza mette insieme grandi gruppi di camminatori e passeggiatori ci sono anche piattaforme ad esempio per il social eating cioè io mi ricordo all'estero c'è Eatwith se siete in una città da soli straniera vuol dire voglio andare a cena con qualcuno Eatwith vi tira fuori immediatamente una cena in casa dove si mangia bene costa un po' perché comunque è un pochino cara però anche lì con un click avete risolto il problema provate a pensare a trovare qualcuno con cui andare a cena in una città dove non conoscete nessuno magari in due ore impossibile credo vabbè gli esempi altri esempi possono essere anche i gruppi di Facebook anche Facebook ha usato molto questo meccanismo dei gruppi sociali facilitando la vita di relazione delle persone anche Facebook in un certo senso il suo successo iniziale almeno l'ha costruito proprio su questo meccanismo allora quindi l'indicazione per i community managers è semplificate le procedure evitate la burocrazia ricordatevi semplice vuol dire community con meccanismi molto lineari molto semplici evitate procedure burocratiche form troppo complicati limitazioni eccessive non giustificate ricordatevi che ogni passaggio burocratico che fate è una sensazione di dolore fisica nel poveretto che la deve che deve sottostare alla vostra burocrazia e ogni dolore che la persona percepisce create rabbia cioè il dolore genera rabbia verso la procedura e questa rabbia può creare nel tempo qualche danno alle community abbiamo anche chiaramente i pericoli delle neuroscienze allora le neuroscienze si possono usare indubbiamente per manipolare le persone e un esempio l'ho trovato in quella disciplina ormai consolidata che è l'ingegneria sociale l'ingegneria sociale è un miscuglio di tecnologia e psicologia proprio per fregarvi in genere la carta di credito la password oppure se andiamo a livello elevato per fregare i dati alle aziende e addirittura ai governi allora io non ho tempo adesso per farvi una lunga spiegazione di queste tecniche vi consiglio un libro che è Human Hacking questo libro è stato scritto da uno che fa questo lavoro e vi da tutta una serie di esempi di come si può utilizzare come possono essere utilizzate queste scoperte anche per fregare gli altri ad esempio profilazione degli utenti la profilazione degli utenti permette di sapere come comunicare con una persona in modo di carpirne la fiducia lui fa un esempio ad esempio persone timide vanno prese in un modo gli estroversi si possono conquistare in un altro modo una volta che la persona abbassa la fiducia ricordatevi l'ossitocina l'ossitocina è l'ormone della fiducia e dell'amore ma anche l'ormone si dice che l'amore cieco l'ossitocina abolisce il senso critico quindi quando siete pieni di ossitocina vi fidate di tutto quello che vi viene detto è lì che vi fregano perché le truffe vivono proprio in genere su questa captazio benevolenza sul fatto di fregarvi la fiducia praticamente quindi si dice infatti nell'amore si dice le più grosse fregature vengono anche dall'amore proprio perché l'amore rende ciechi e poi quando si ci sveglia si ci rende conto che forse la situazione era un pochino diversa da quello che vedevamo con tutta questa ossitocina gli esempi sono tanti io vi consiglio a questo punto di leggere il libro l'insegnamento di questo libro è che se siete dei community manager secondo me dovreste considerare anche i problemi di sicurezza delle vostre community quindi avere almeno un'idea di questi meccanismi vi può aiutare a fiutare se ci sono hacker o tentativi di hackeraggio o comunque qualcosa che può mettere praticamente in pericolo i membri della vostra comunità ecco io vi ringrazio per l'attenzione il mio intervento è finito e vi lascio grazie mille per l'applauso vi lascio io ho un blog se volete seguirlo che è Neuro Web Copywriting dove approfondisco queste scoperte legate alla comunicazione questo è il mio profilo LinkedIn e se volete chiedermi delle cose o seguirmi trovate qui tutti i miei riferimenti non so se c'è spazio per qualche domanda io sono qui se possibile soddisfero per quanto posso perché io non sono un neuroscienziato ma un semplice divulgatore cercherò di rispondere alle vostre domande assolutamente se avete domande alzate la mano vi porto il microfono abbiamo tutto il tempo no? super esaustivo chiarissimo aspetta che ti do un microfono intanto grazie è stato molto molto chiaro e condensato dei concetti molto importanti secondo me in poco tempo non era facile ti chiedo un tuo punto di vista tu hai parlato dell'ossitocina e dell'importanza all'interno di una community quindi di anche di fare leva su cose come per esempio il senso di responsabilità piuttosto che il dovere come vedi tu hai parlato di engagement e quindi anche di hai citato JB Fogg che è importantissimo dal punto di vista del product development però come vedi queste dinamiche se le confrontiamo con quello che oggettivamente vediamo oggi nel mondo soprattutto dei social dove c'è una fortissima polarizzazione molto spesso si ha la sensazione che il conflitto anche se generato diciamo in maniera endogena crei più engagement di quanto non lo crei per esempio il senso di responsabilità o piuttosto che la libera conversazione la discussione dicendo e c'è un po' diciamo un conflitto di base in questo perché comunque ci sono delle dinamiche negative che però sono proficue e dall'altra parte però c'è il senso di responsabilità del community manager che dovrebbe cercare invece di portare la conversazione su altri temi qual è il tuo punto di vista su questa situazione oggi? Allora io credo questo una cosa è se stiamo a livello di chi gestisce un'altra cosa se stiamo a livello del coinvolgimento emozionale allora se vogliamo una community che funziona effettivamente dobbiamo ridurre i conflitti perché altrimenti la community si spacca e in genere chi crea conflitti è quello che vuole no? Cioè io mi ricordo già ai tempi dei vecchi troll li chiamavano al primo web 1 già si sapeva che il troll rompi scatole viene lì per distruggerti la community per spaccartela in tanti sottogruppi e per sabotartela se invece ragioniamo dal punto di vista del piacere puro del film dell'engagement ma le emozioni le emozioni negative sono le più forti le migliori si dice tanto ma la verità che non c'è niente di meglio della vendetta non sembra ma sentimenti negativi ci sono persone che ne hanno proprio bisogno dei sentimenti negativi ora io su queste cose ho notato che siamo molto indietro come neuroscienze tenete conto che oggi non esiste una teoria condivisa sulle emozioni se vi leggete un manuale di neuropsicologia cognitiva anche ultime dicioni lo dicono ci sono tre teorie più o meno sulle emozioni un accordo non c'è le prove sperimentali sono ancora poche ma soprattutto siamo ancora agli inizi delle analisi anche a livello neuronale cioè adesso si è capito un pochino come funziona la paura e il ruolo della migdala questo è un po' consolidato ma prima che si arrivi a capire tutte le altre emozioni passeranno decenni sempre che si capiscano perché il cervello umano è sorprendente quindi la mia posizione è questa dal punto di vista bisogna distinguere le due cose se lavoriamo sull'engagement potete lavorare alla grande anche sul male il demonio è sempre un gran fascino e non è un caso che alla fine i film più belli sono quelli dell'orrore oppure dove c'è la mafia che li ammazza tutti diciamo la verità cioè la sera se volete rilassare anch'io dico vediamo una roba terribile con quegli intrighi col traffico di droga mondiale che arriva fino al governo il marcio la corruzione il sesso violento questo ci piace diciamolo se però siamo quando entriamo nelle community attenzione non possiamo lavorare in questo modo cioè non è un film dell'orrore la community deve funzionare quindi le community per funzionare devono comunque lavorare sempre sui buoni sentimenti quindi la prospettiva di chi gestisce una community e che gli piaccia o non gli piaccia rabbia paura eccetera li deve tenere sotto controllo altrimenti avrai un gran film ma alla fine è drammatica la community poi non c'è più ci sono comunque anche degli studi ad esempio sui like che si è scoperto che è uno studio italiano si è scoperto ad esempio che noi diamo un like mi sembra quando abbiamo delle emozioni positive e diamo una condivisione quando abbiamo delle emozioni negative adesso non me lo ricordo se è il contrario però si è scoperto effettivamente che c'è un gioco su questo discorso quindi è chiaro che se voi lavorate poi sull'algoritmo di facebook avete bisogno di like e di sharing e scoprite queste cose cominciate a produrre contenuti divisivi come si suol dire perché così avete lo schieramento quindi like oppure contenuti buonisti per avere la condivisione e la gente si sente buona sono meccanismi che al momento creano l'engagement e vanno bene per un copywriter ma se siete un manager di community secondo me il copywriter poi lo strozzate perché una volta che vi ha diviso la community in due certo avrete magari 5.000 like però poi avete una community irrecuperabile quindi attenzione ai livelli e anche agli obiettivi cioè l'obiettivo di un community manager è comunque preservare la community quindi va su delle strategie emozionali che sono necessariamente diverse da un copy che vuol far casino per attirare l'attenzione e poi magari infilarti la scheda prodotto e io infatti ad esempio seguo delle comunità su whatsapp per il tempo libero riflettevo che vedo che la persona distruttiva è quella che ti manda continuamente 20 perché quello sta facendo spam quindi attenzione la community non può avere una logica di questo genere se vuoi preservare una community hai necessariamente dei meccanismi diversi da quelli dell'engagement di tipo pubblicitario e infatti non è un caso che ogni community in genere la regola è guai al primo che fa spam qua dentro è vetata qualsiasi genere di promozione o di comunicazione di un certo tipo perché sono regole di base insomma e quindi una cosa è fare community secondo me un'altra cosa è fare comunicazione emozionale una cosa è mettere assieme le persone un'altra cosa è vendere